Dobbiamo essere uniti, attività del colore politico, dell'appartenenza, del ruolo, chi è? Tutti in campo, perché i diritti e la salute delle persone non hanno colore. La questione impianto di biogas finisce in prefettura. È stato fissato per domani un incontro. Ieri mattina Sarno e i cittadini hanno fatto sentire nuovamente la loro voce. Domani alle 16.30, su richiesta del sindaco Giuseppe Canfora, il prefetto di Salerno riceverà il primo cittadino di Sarno ed una delegazione di cittadini di Foce. Spesso, per non inficiare i percorsi in atto, non posso entrare nello specifico, ma la battaglia dei cittadini, dei residenti di Foce, è la mia. Ha dichiarato il sindaco Canfora, il quale, già nella giornata di ieri, aveva sottolineato come si stia lavorando a stretto contatto con la procura, la prefettura, le forze dell'ordine ed esperti per rilievi e verifiche. Si sta raccogliendo materiale utile anche per l'udienza, il ricorso presentato dalla proprietà contro l'ordinanza di chiusura dell'impianto del sindaco, che ci sarà a breve. Dopo che il primo cittadino Giuseppe Canfora ha firmato l'ordinanza di sospezione dell'impianto biogas di Foce, l'azienda aveva infatti presentato ricorso a TAR contro il provvedimento del sindaco.